I ministri delle finanze dei paesi europei si sono riuniti in videoconferenza per trovare un accordo e dare una risposta comune allo shock economico provocato dalla pandemia influenzale. L'intesa, promossa da Berlino e Parigi, apre le porte ad un uso flessibile del meccanismo europeo di stabilità con una misura straordinaria di mille miliardi e ad alla nascita di un fondo del valore di 500 miliardi di euro. Il MES, nello specifico meccanismo europeo di stabilità, è un fondo incaricato di aiutare i paesi in crisi che utilizzano l'euro prestando denaro. Naturalmente dietro a questo meccanismo incarbugliato la politica è completamente divisa in Italia ed in Europa. Prestando infatti denaro ad uno stato in difficoltà si dovrebbe giungere ad un livello che tranquillizzi i mercati e possa scoraggiare le speculazioni. Il prestito potrà raggiungere il 2% del PIL del paese debitore e sarà a disposizione di tutti gli stati membri. Sono previste diverse misure di aiuti agli stati europei, sempre in forma di prestiti, il cui obiettivo principale è il rilancio dell'economia. Il pacchetto di aiuti è destinato a sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità all'impresa ed evitare una diversa crescita tra le economie degli stati europei. Superata l'emergenza pandemia i paesi si impegneranno a rafforzare gli accordi economici e a rispettare il quadro di bilancio. Sono molti però che sostengono che l'accordo su questo meccanismo non va bene e peserà sulle nostre tasche, come è già accaduto in Grecia, perché accrescerà ulteriormente il nostro debito. In questo particolare momento è necessaria una fortissima azione gestita dalla Commissione europea che dia liquidità alle famiglie e dall'impresa in forma di euro bond, che non è un prestito ma un piano europeo gestito da commissione che aiuta tutti gli stati in maniera uguale, evitando diseguaglianze tra chi ha di più e chi ha di meno. Se non si riesce a far capire questo manca purtroppo l'idea di una Europa federale.